Buonasera. Buonasera. Io sono il papà. Io sono la mamma. Ciao Alfredo. Di Alfredo buona buona. Eh, vedi Alfredo che cosa fa papà e mamma? L'emozione di stare di fronte a una telecamera, a parte di quando ci siamo sposati, comunque Alfredo per lui è stata una sorpresa scoprire la sua passione per il canto. Sì, è successo qualche estate fa, in vacanza. Io mi sono meravigliato, timido com'era di non andare a cantare una serata per la notte. Beh, ho detto, chissà, se... Poi, sentendolo tant'altro, da allora è cominciato la mia emozione, e anche di più. Alfredo, ricordi quando eri piccolo che facevi il disegnino? Tu con il microfono? Adesso il tuo sogno si sta realizzando, metticela tutta. E stasera, provociano di emozionare ancora, con un pregare di Adriano Senta. Applausi 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 La fede non sa, ma su tu, tu lo vorrai, che la legno di odiare il sole, perché tu non puoi vederlo, ma c'è ora flessere, subito su di noi, dal castello del silenzio, che non vivi, che senti, 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 che senti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti